Quando siamo arrivati alla riunione convocata il mercoledì sera ci hanno detto che la cooperativa aveva assunto questa decisione e che quindi al 31 di luglio l'attività del giardino sarebbe stata chiusa. Ovviamente sgomento generale, incredibilità perché nessuno di noi genitori penso avesse mai avuto un sentore di questa possibilità, probabilmente neanche le operatrici, questo non lo so, penso di sì. Comunque la notizia ci è arrivata mercoledì sera, mercoledì sera a una settimana e mezza dal possibile termine per le prescrizioni abbiamo avuto questa notizia. Avete fatto presente alla Presidente che magari le tempistiche potevano essere diverse per essere avvisati? È stato fatto presente anche perché da quello che ci era stato riferito, essendo questo problema economico-finanziario alla cooperativa noto da tempo, abbiamo certamente lamentato che i tempi di comunicazione ai genitori dovevano e potevano essere ben altri, quindi per consentire eventualmente delle discussioni con i genitori, per consentire ai genitori stessi di intervenire nell'individuare varie soluzioni, quindi certamente noi abbiamo lamentato questo. Ed è forse anche stata la cosa che ha animato un po' di più gli animi, perché ricevere una notizia così, inaspettata, improvvisa, non ha fatto certamente piacere. La cosa positiva però è che oggi appunto a fronte del tavolo di dialogo che abbiamo avuto, ciò che abbiamo richiesto, certo, però abbiamo oggi potuto discutere serenamente e con determinazione ciò che magari si poteva fare prima, ma che probabilmente porterà all'esito sperato quando comunicheremo il tutto ai genitori. E comunque volevo aggiungere che l'importanza di oggi è che siamo qui a rappresentare una comunità, a rappresentare il fatto che insieme noi possiamo veramente tenere aperto questo asilo e vogliamo farlo. Nonostante tutto, nonostante le difficoltà, siamo contenti di raccontarvi che comunque ci è stato aperto un dialogo oggi e che quindi si può lavorare insieme. Secondo voi, i genitori, un po' da quelli che sono i sentori che avete avvertito, saranno d'accordo di questa soluzione o comunque qual è il numero di famiglie che dovranno appoggiare questa soluzione? Quello che vorremmo noi è che tutti aderissero a questo progetto insieme, ma soprattutto anche pensiamo ai futuri iscritti, perché qui ci sono veramente delle famiglie che sono uscite da questo giardino, dal centro infanzia da anni e però hanno trovato un legame molto stretto, hanno condiviso amicizie, hanno condiviso valori. Quindi non è solo lascio i miei figli al centro infanzia piuttosto che al babysitter, è condivido i valori che porta avanti questo centro e condivido soprattutto la condivisione di comunità che rappresentiamo. Posso aggiungere a riguardo, giusto per dare un tocco concreto e una risposta pratica alla domanda, che in questi giorni non abbiamo avuto percezione di genitori che abbiano detto vabbè, anzi tutti quanti si sono armati di telefono, chat, whatsapp ed è in corso e corso un tam tam mediatico per cui tutti si sono fatti parte attiva, parte diligente, tutti interessati proprio all'esito dell'incontro che già mercoledì sera abbiamo richiesto e ottenuto con i rappresentanti della cooperativa. Quindi noi siamo sicuri che tutti i genitori aspettassero proprio l'esito di questo incontro. Alla luce di quanto è successo e anche delle tempistiche che appunto avete lamentato per quanto riguarda l'avviso della possibile chiusura, avete un messaggio per il futuro da dare anche in termini di gestione per eventuali problematiche che speriamo non avvengano più? Beh, certamente il messaggio può essere quello che, visto che un'attività così coinvolge in prima persona anche i genitori, è giusto che determinate scelte, determinate problematiche, determinate evoluzioni o quant'altro vengano preavvisate e comunicate ai genitori ed eventualmente con i genitori stessi valutate possibili soluzioni alternative e quant'altro. Questo credo possa essere l'avviso, l'auspicio per il futuro. Grazie